Tappa barese per Giovanni Caccamo, ospite d'eccezione al Centro Polifunzionale degli Studenti dell'Università di Bari Aldomoro. Il cantautore siciliano ha presentato il nuovo progetto Parola ai Giovani, nato per dare voce ai ragazzi e creare con loro un manifesto sul cambiamento, che sarà poi pubblicato e consegnato al Presidente della Repubblica Mattarella e a Papa Francesco. Caccamo si fa portavoce della sua generazione e desidera spingere i giovani verso un nuovo cambiamento, in un momento storico di crisi e guerre. Il progetto è attuato in collaborazione con i maggiori atenei universitari italiani ed è rivolto a tutti coloro che credono in un mondo diverso e nuovo tramite cambiamenti socioculturali e spirituali. Parola ai Giovani è un progetto che rivolge una domanda a tutti i giovani italiani. Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Ogni ragazzo potrà scegliere una parola di cambiamento e scrivere un breve trattato rispondendo a questa domanda. Sicuramente c'è molto bisogno di ascolto, di empatia, queste sono le parole che quasi sempre vengono fuori. Ho deciso di dedicare questi mesi della mia vita alla mia generazione, a cercare di fare qualcosa di concreto per la società e per i giovani. Quindi se questo potrà essere utile per dei ragazzi per riaccendere la loro fiamma di passione o per trovare il loro posto nel mondo, per me questa sarà la vittoria più importante.